Vi abbiamo sempre detto che letteralmente radio è una radio con tante radio dentro. Ora lo stiamo dimostrando nei fatti. Dentro a letteralmente radio trovate non solo note web radio ma anche modulazione special. K radio appunto. Ma anche radio echo one e radio yoga network. Buon ascolto. Le ricette del cuore di Cristina. Farfalle alle erbe profumate. Ingredienti. Per 4 persone. 350 grammi di farfalle. Basilico. Prezzemolo. Origano. Erba cipollina. Timo. Menta. Sale. Olio extravergine. Un pizzico di asafetida, spezia che può sostituire aglio e cipolla. Preparazione. Con una mezzaluna tritate le erbe, dopo averle lavate e asciugate. Versatele in una zuppiera dove avete già emulsionato 5 cucchiai di olio, il sale e l'asafetida. Mescolate bene e intanto lessate le farfalle. Unite due cucchiai di acqua di cottura della pasta alla salsina, mescolate e unite le farfalle cotte e scolate. Sei all'ascolto di K Radio. Un'emozione nuova. Dal passato un nuovo presente. K Radio Bologna chiocciola gmail.com 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 K Radio Bologna chiocciola gmail.com